Salve a tutti i cari sconosciuti, io sono Ferry, o se preferite Melochi, e con una velocizzazione del 1200% state vedendo la creazione del nostro McMuffin, il ritorno di McMuffin, o meglio, il prequel della storia di Dark Souls 3 di McMuffin, questa è la sua versione un po' più giovane, l'editor è quello che è, quindi comunque ho dovuto, sono dovuta scendere a compromessi, oltre al fatto che è incredibilmente massiccio e peloso, però almeno quello è canon. Nulla, vi invito comunque a guardare l'episodio zero della serie per eventuali chiarimenti sulle mie intenzioni circa questa serie di gameplay, però non ho altro da aggiungere se non augurarvi una buona visione, come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, spero che non rimaniate delusi, sto dando e darò del mio meglio in questa serie di gameplay, che non sono una blind run, ma sì, ma vedrete, vedrete, non vi dico altro, insomma, pensavo peggio, come a tutto come il primo episodio, ma fatemi sapere, insomma, quindi McMuffin vi saluta, io vi saluto e ci vediamo presto. Avrete visto, appunto, con un rapido post-commentario, la creazione del personaggio, quindi non mi dilungherò oltre l'ormente. Qua abbiamo il nostro meraviglioso McMuffin. I topini che sono belli! Quanto sono brutti, non morti da Xos! Eccolo là! Ciao! L'effetto delle anime è fantastico, veramente figo, quindi comunque il gioco ovviamente a 60, però questo video sarà a 30, punto primo. Punto secondo, questo è il nostro McMuffin, ho cercato di fare il possibile, visto che comunque l'editor di Dark Souls è estremamente limitato, quindi, insomma, ho cercato di renderlo più vicino possibile alle fattezze del McMuffin di Dark Souls 3 e in realtà nella mia testa è lo stesso personaggio, appunto, il suo viaggio prima di diventare quello che è diventato, appunto, in Dark Souls 3. Altro punto, vi invito, qualora non l'abbiate fatto, a guardare l'episodio zero di questa serie dove, vi spiego, qualora ci fossero dubbi, che questa non è una serie challenge, non è che ho preso il piromante perché voglio fare la figa, ho preso il piromante perché sono a livello 1 ed è più facile livellare fine. Sono scarsa! Non guardate questa serie perché volete vedere le cose fighe, sono una caccola, mi ricorda a malapena i tasti. Questa cosa finirà malissimo, sarà un bagno di sangue. Cioè, forse non è chiaro, ma nel modo sbagliato. Scusa, eh? Ok, questa cosa mi farà morire tantissime volte perché lo so già che sbaglierò e preverò cerchio e cadrò. Mamma mia, che cagoni che siamo. Attenzione, le nostre prime 20 anime, eh. Qua c'è il nostro amico. Sono in un'ansia che voi non avete idea. Voi non avete idea dell'ansia che sto provando in questo momento io. Va bene. Allora, io comunque il gioco lo conosco, quindi non c'è... Non è blind run, ovviamente, quindi... Su qua! Ok, fino a qua ci arriviamo. Ok. Per esempio, io non ricordo. Vale come checkpoint anche se non mi siedo? Boh! Penso di no, forse devo sedermi per forza. Oh, questo... Tac! Tac! Questo sarà più o meno il simbolo di ciò che farà il gioco a me praticamente per tutta la storia. Allora, equipaggiamento. Leviamo questa cagata. Ecco, già, ora va un po' meglio. Voi non avete idea dell'amnesia che sto provando in questo momento io giocando. Lo so che si va dall'altro lato, però davvero... Forse non ha... Sottovalutata è la mia... La mia memoria... Cioè, sottovalutata è la mia capacità di dimenticare ogni cosa. Vabbè. Questo me lo ricordavo anche. Aggiusto Oscar è qua. No, va bene, sei finito. Sì, va bene, ti ascolto, sì. Hai fallito, va bene. Sì, la campana preferita, fiaschetta, grazie. Questa è questa. Grazie. Addio, addio. Prego, prego. Ciao, eh. Ok. Guardalo, ho incacciato nero! Bastardo! Il primo nemico! È già ci appicchiato, ma io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Che vergogna. Che vergogna. Ecco qua, dovrebbe essere questa. Esatto, la fiamma. Esatto, esatto. L'ha detto, ho visto, eh. Vabbè. Signori, qua... Bisciottato. No! Maledetti muri! No, eh, sono abituata... Con la tua mamma... Con la tua mamma... Olè! Ci siamo riusciti, eh. Sì, sì, sono tornata... Sono tornata al falò perché faccio schifo, lo so. Non... Non giudicatemi. Fate finta... Fate finta che è la prima volta che gioco al gioco, ok? Facciamo... Facciamo così, così. Nessuno si sente risentito. Tanto voi non avete prove che abbia giocato Dark Souls, a parte le mie... Allora, sei stronzo. Facciamo finta che non l'ho mai giocato, eh. E che quindi tutto ciò che vedete è soltanto una persona in blind run estremamente brava. Se muoio... Contro il demone... Piango. Allora, questo non mi serve. Io comincierei così. A due mani... Vediamo se devo pure fare il fail del danno alla caduta, eh. L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! Ecco, anche lui l'ha preso. Sì, ma... Input lag è notevole, eh. Brucia! Grassone di merda! Grassone di merda! Brucia! 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 Mi ha preso? Mi ha preso? Non importa. Tranquillo, tranquillo. Brucia! Suga! Ahahahah! Dovrei vergognarmi, sì. È stato molto imbarazzante. Molto imbarazzante. Eh... Ma sono stata bravissima! Primo tentativo! Che dolore! Qualcosa da raccogliere? Io non mi ricordo nulla! Dovrei giocare col mio ragazzo. Mi dovrebbe aiutare lui. Quanto meno come figura emotivamente di sostegno. Cioè, ho bisogno del gruppo di supporto, io. Bene, bene. Ok. Il nostro mic-muffin. Che bordelo. Proprio... Nervi saldissimi. Ok. Eh sì. Lordran. Il viaggio è cominciato. E sarà... Terribile. Però, devo dire la verità, rivedendo il filmato iniziale, mi sono... Mi sono emozionato. Mi sono emozionato tanto. È stato delicatissimo comunque l'uccello, eh. Ok. In Lordran aumenta di livello e ravviva la fiamma al falò! Yeee! Grande! Sì, l'ho capito. Grazie. Ah, che fiamma. Dieci. Io dovrei ucciderti, sì. Però dai, non lo facciamo. Non ancora, almeno. Va bene, fammi indovinare. Va bene, è troppo tardi. Aiuto, campane. Va bene, sì, sì, le campane. Ah, 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 ah. Ridi, ridi, ridi sto cazzo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Fottiti. Il mio sogno proibito sarebbe prendere la Svajander. Se non fosse, se non fosse, che io non mi ricordo la strada, mi pare sia nell'enorme lapide in fondo, e del resto non mi interessa solo tornare indietro viva, questa cosa finirà malissimo. Siamo pronti? Questa cosa finirà malissimo. 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 Dove cazzo è? Dovrebbe essere qua? È qua? Dai che è qua? Dai che è qua? Sì, cazzo! Vai via! No! E vabbè, e vabbè, e vabbè, e vabbè, e vabbè, e vabbè, 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 vabbè. Ok? Ok, 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 ok. No! No, 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 sono viva, sono viva, sono viva, sono viva, vabbè, signori, qua, qua, pro, 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 primo tentativo. Primo tentativo ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso la Svajander, signori! Guardalo lui, bello lui, bello lui! Hello there! Hello, good day to you! Sì, sì, no, tranquillo Mi fai schifo, cioè, non ti preoccupare, eh, Petrus Sì, sì, sì Prego, grazie Grazie, 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 Petrus Sì Sì, 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 sì Va bene, sì, sì Facciamo i fatti Tanto Oddio, topini Ma lì ero scoportato, che bello Sono grassi E malatissimi, guarda Che schifo Che brutto, che orrore Ah, mamma mia Vanno ancora più schifo a questa risoluzione Che casino fa l'acqua Io qua mi sono già persa, forse non è chiaro Già non so più Dove sono, però sono shortcut ed è finita Addio, per sempre, guarda lì Ci credono tantissimo Ma tanto, no Io non mi paro Cioè, è inutile che faccio qua la figa Con lo scudo di merda L'ho visto, eh Tac Tac Bravi, bravi Giù, giù Tutti giù per terra Vieni, vieni Sono stata una figa incredibile Mancati Come hai fatto? Come hai fatto a mancarlo? Mick Mannaggia a te La balestrina Con queste frecce lentissime Loro fanno E io Quando mi colpiscono Siamo arrivati al borgone Non morti Se penso a quante volte Io sia morta la prima volta Per arrivare qua Sono commossa Qua c'è sicuro un nemico Qua c'è sicuro un nemico Eh, lo sapevo che c'era il nemico Ma lo ricordavo che c'era il nemico Va bene Che bravura Non siamo ancora morti nemmeno una volta Ciao, piccino Accarezza il suo barile Dici questo Questo barile Guardateli Che belli che sono Dai, dai A due a due No? A due a due Bra Bra Così mi piacete Dai, dai Venite, venite Tutte e due Yeah Vai Così Da Tu no? Allora tu mori così Ad accettate Va bene E direi Prima di farci bullizzare Da questi signorini Che hanno Chiara intenzione di Farci diventare Una grigliata di carne marcia Che possiamo dichiararci Più che soddisfatti Di essere arrivati qui Senza essere mai morti Neanche una volta È qualcosa di commovente Per cui io direi decisamente Che ci saluteremo Qui Come primo episodio iniziale Vedremo un po' Come evolverà la situazione Spero di portarvi episodi Più frequentemente possibile E dalla prossima volta I video magari saranno a 60 Perché mi rendo conto Che è anche bello Vedere un cavolo di video a 60 Una volta tanto Che abbiamo Dark Souls a 60 E ovviamente La città infame Dovremmo farcela a 60 Però starei a fare Oh sì 60 Quindi Fatemi sapere Che ne pensate Nei commenti Ditemi che ne pensate L'idea Perché c'era il dubbio Tor Gunno Mick Muffin È stato scelto Mick Muffin Per una continuità narrativa È come se fosse La no Il prequel Di Dark Souls 3 Questo qua Del resto lo è Quindi Ditemi che ne pensate Nei commenti Mi raccomando Tantissimi dislike E ci ho detto Vi ringrazio per l'attenzione E noi ci sentiamo O ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao Mi farebbe piacere Che i campi di nome E commento Fossero compilati Così da ricevere Un feedback Da parte di tutti Quelli che supportano Il mio lavoro Ci tengo a precisare Che qualsiasi supporto Anche solo verbale È sempre benvenuto E apprezzato E non vi rende Followers Di serie A O B Ci ho detto Grazie ancora Per l'attenzione E al prossimo video